Ok, eccoci, buongiorno da Movimentalmente, Corso Traiano, iniziamo la settimana stavo parlando con le ragazze online, c'è la possibilità quest'anno purtroppo che non ci sia il mio supporto per quanto riguarda online, però ho immaginato delle cose, ve le farò sapere in questi giorni, cioè che possiamo comunque allenarci e magari con il supporto di alcune di voi che però abbiano una buona conoscenza dell'aspetto tecnico, a cui spiegherò dei dettagli aggiuntivi, si può fare comunque allenamento insieme al mattino. Tutto questo è da creare ancora, è solo un'idea, però dato che girano molto quest'estate in moto, credo che non sarò comunque costante, quindi non voglio dare un impegno che non posso mantenere, per cui va bene, ci organizziamo differentemente e vediamo cosa fare. Dunque, intanto noi facciamo primo livello oggi, ho visto che sono andate molto bene gli esercizi per la circolazione, molti di voi mi hanno risposto che sono stati molto bene, dal fatto che fa molto caldo, quindi facciamo tutta la sequenza della riattivazione della circolazione per il caldo, io adesso magari datemi un secondo che metto ancora a posto una cosa tecnica... ok... questo è troppo sovraesposto come luce... mi sa che non si può fare niente... oggi va un po' così... dunque... dunque... allora... spalle molli, molli, molli le spalle e lasciamo... non so se vedete, solo sui talloni... talloni in sospensione, quindi non toccano, in sospensione e lasciamo cadere un po' le spalle... giù... cominciamo a fare questo... per le donne, se questo dà fastidio... ci andrebbe una maglietta sportiva... ce l'avete? dovete caricare e lasciare giù le spalle... giù le spalle... giù... questo fa cedere un po' di tensioni sulla zona cervicale... rimanete ancora un po' lì... ok... stop... la nostra campana e dai schiaffi... ah... se avete l'orologio non è molto indicato per tutta questa serie di esercizi... quindi toglietelo... fate come faccio io... e... schiaffo... schiaffo anche... qua... ok... via... dai livelli dello schiaffone... sulla zona dei reni... questo attiva un po' la nostra energia... e la nostra circolazione... molto bene... cambio... ti pieghi un pochettino così... schiera dritta... sulla spalla... e via... e via... e via... e via... e via... e via... ok... attenzione... adesso... devi fare questo... e arrivare con la mano... qua... l'altra... contemporaneamente... qua... quindi vai... e arrivi così... lo facciamo insieme... ne facciamo 40... e vai... uno... due... tre... quattro... lascia andare le... braccia molto con il shoulder... sete... quattro... 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 le spalle. Senti queste vibrazioni che partendo da qua ti reattivano un pochettino, ti reattivano, senti che il corpo si sta svegliando. Adesso ci andiamo un po' più di spalla, quindi lavoriamo sulla mobilità della spalla e allora per chi ha i capelli lunghi questo va messo in questo modo, qua, chi ha i capelli corti non c'è problema, dobbiamo colpire qua, lascia andare e poi quando vado su, guardate, metto la mano così di modo che questa mi aiuti a dare il colpo dietro. L'obiettivo è un centro del nostro corpo che spesso come un gorgo autostradale si intasa e ci fa bloccare tutta la parte superiore. A volte vedete anche una piccola gobetta, quella gobetta non ci deve essere e quindi uno dei modi per sbloccarle, a parte la nostra ginnastica, è un modo più credo, quindi facciamolo in questo modo. Ne facciamo sempre 40, lascio, 1, fermi lì, colpo, non, no, questo è, ok, 40, vai. No No lascia andare le braccia dai ancora dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno e stop allora muovi un pochettino muovi muovi un pochettino adesso immagina di prendere qualcosa a questa altezza e salire su con le ponte per prenderlo quindi vado e poi lo spingo giù te lo faccio vedere al rallentatore lo spingo giù istendendo la schiena quindi poi su giù adesso il colpo veloce è questo inspiro devi sentire cedere qua è importante ok facciamo solo venti vai inspiro e e e Sì. 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 ok, sciogli un pochettino, ah no, questo non doveva spostarsi, si è spostato ma ci sta ancora, ok, ok, allora un altro bel metodo per riattivare bene la circolazione del corpo è un bel metodo di colpire, adesso facciamo frontale, interno, esterno, petto, occhio per il seno, io vado giù così, voi cercate di non farvi male e andare giù così, poi lato, dietro, da qua, dai glutei giù, interno, frontale, esterno, ok, piacciamo, dall'itene, frontale, ruota interna, esterno, e se ne è, frontale, interna, esterno, dietro, glutei, appoggia le mani giù, rilassa, distendi le ginocchia, inspiro, e vieni su, espiro, ok, bene, questa sequenza è ottima per riattivare un po' la circolazione, la tua energia, al mattino è meraviglioso, poi si potrebbero fare ancora delle cose di questo tipo, ma noi facciamo una forma nostra di allungamento su tutto il corpo e per oggi va bene così. Allora facciamo gli otto pezzi di broccato, l'altro giorno al parco ho chiesto di concentrarsi sul radicamento, radicamento che soprattutto in questa occasione non ti fa fare questa cosa qua. quindi ben radicati facciamo gli otto pezzi di broccato e poi concludiamo. ecco Grazie. 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 Ok. Bene. Allora saluto intanto chi è indifferita. Vi auguro una buona giornata. E a domani. È andato. Non si ferma neanche più.